Attualmente il numero verde della Regione Marche per informazioni sull'emergenza Covid-19 ha ricevuto più di 25.000 telefonate, rispondendo in media a 530 telefonate al giorno. Nell'ultima settimana analizzata, dal 7 al 13 aprile, sono state ricevute 1.651 chiamate. La media giornaliera per settimane è di 236 chiamate in netto calo rispetto alle settimane precedenti, con picchi di attivazioni successivi al fine settimana. Nell'ultima settimana analizzata, i cittadini che hanno contattato il numero verde per motivi di salute sono stati il 54% e di queste telefonate il 40% esitava con l'asenalazione al SISP. Dal 7 aprile sono state raccolte le schede di 357 soggetti, le cui informazioni sono state infine inviate ai rispettivi dipartimenti di prevenzione per la messa in atto della sorveglianza attiva o per valutare, caso per caso, se organizzare o meno le indagini diagnostiche. Rimani stabile l'aumento delle informazioni richieste riguardo a ordinanze regionali e nazionali. Inoltre non sono diminuite le domande riguardanti gli spostamenti dei cittadini. Dal giorno 15 marzo il numero verde ha comunicato alle associazioni interessate i contatti dei soggetti che accettavano o richiedevano supporto psicologico e o assistenza alla persona. Fino al giorno 13 aprile sono state inoltre 315 richieste di consulto psicologico, con una media di 10 telefonate al giorno con intervento psicologico. Le richieste da parte di persone non autosufficienti o impossibilitate dalla quarantena a reperire beni di prima necessità sono state in totale 211, su una media giornaliera di 7 richieste al giorno. Si è inoltre osservato, tramite Google Trends, che la ricerca delle parole numero verde coronavirus tramite il motore di ricerca Google è in discesa in tutta Italia, probabilmente per l'ormai assodata conoscenza da parte della popolazione dei vari numeri verdi regionali, o come sottolineato dalla riduzione delle chiamate pervenute al numero verde sul coronavirus della regione Marche, per una diminuita necessità della cittadinanza di chiedere informazioni. Si ricorda che attivo il numero verde WhatsApp è riservato alle persone sorde 334-6392-7444.